Dobbiamo tristemente constatare come il giardino Alberto Giacuinto in via Aristide Carabelli sia in condizioni difficili. La denuncia arriva dall'associazione Ostia Protagonista che prosegue. Negli ultimi mesi si è fatta sempre più pesante la presenza di bivacchi e degrado. Questo immenso spazio verde merita maggiori cure e attenzioni, soprattutto perché si trova nel cuore di un vasto quartiere. Siamo stufi, spiega l'associazione, di dover assistere a scene di profondo abbandono, con sbandati impegnati in tutte le ore ad ubriacarsi o ad accendere fuochi all'interno del perimetro. Si torni a pensare ad un'utilità diversa per questo giardino, che gli stessi cittadini vorrebbero riqualificare come un punto d'aggregazione. Noi, conclude Ostia Protagonista, ci immaginiamo una ludoteca, un chiosco e un'area cani. Tutte soluzioni che porterebbero ad una maggiore vivibilità, superando l'attuale situazione di degrado. Grazie a tutti.